Il rapporto ufficiale del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo colloca Giulianova al primo posto fra le nove città della provincia di Teramo con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Per l'anno 2017 abbiamo raggiunto una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti del 74,71%. È una grande soddisfazione che a nome dei miei concittadini esprimo per il livello di eccellenza raggiunto da questo servizio e voluto fortemente all'inizio della mia sindacatura nel 2009. Che sta usando sempre più frutti. Giulianova nell'ultimo anno ha aumentato la raccolta differenziata del 4,75% rispetto al 69,96% dell'anno passato. Quindi 74,71% che non solo ci colloca al primo posto fra i nove comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti in provincia di Teramo ma ci conferma fra i comuni ricicloni della Regione Abruzzo. E' un grande risultato che ora deve essere ottimizzato con un ulteriore passaggio. Il prossimo bando per l'individuazione del gestione unico dei rifiuti potrà diminuire anche il costo a carico della cittadinanza.